Bentornati a Giurisi, il diritto in maniera semplice. In questo mese ci siamo presi un po' di tempo per organizzare con gli amici di Senza Riguardo uno speciale dedicato al tema migratorio. E dopo la diretta che si è tenuta martedì scorso, come vi abbiamo detto proprio in quell'occasione, da oggi partiranno quattro episodi in replica di quello che è stato l'ora di discussione e di approfondimento. E quindi vi lasciamo alla prima parte dello speciale dedicato al diritto del mare e alla problematica migratoria subito dopo la sigla. A più tardi. Inizia un'altra settimana all'insegna della libertà d'espressione del confronto del pluralismo. Lo facciamo con il tema che abbiamo ovviamente annunciato sui nostri social. Questa sera inauguriamo insomma una collaborazione, forse per tanti di voi non sarà una cosa nuova per quelli che ci seguono da più tempo, visto che faremo riferimento a un volto che è già stato sui nostri schermi. Però speriamo di darvi un'esperienza un pochino più strutturata rispetto al passato e parlo della collaborazione con il canale Giurisi, il diritto in maniera semplice. Proveremo di tanto in tanto a affrontare anche con un taglio un po' più giuridico, sempre divulgativo, mai troppo tecnico, dei temi appunto che riguardano il diritto. O meglio, proveremo ad affrontare dal punto di vista del diritto alcune tematiche su cui il dibattito è, come dicevo un minuto fa, un po' troppo superficiale. Ma se ci conoscete sapete già chi è il cuore, chi è la mente di Giurisi, il diritto in maniera semplice e sto parlando dell'avvocato Vincenzo Maria Scarano. Bentornato a Senza Riguardo. Salve, buonasera a tutti, grazie per questa bellissima occasione. Mi permetto di agganciarmi anch'io alla presentazione perché sì, inauguriamo questa collaborazione soprattutto per i martedì di approfondimento e ovviamente questa puntata che adesso è in diretta sul canale Twitch di Senza Riguardo sarà poi passata in replica sul canale di Giurisi, ovviamente con le caratteristiche grafiche che sono quelle del canale di Giurisi, quindi sarà spezzettata in video da 10-15 minuti, ovviamente con i commenti, link e tutto il resto. Quindi spero che questo argomento e anche altri possano essere interessanti, d'attualità e fuoriere di una lunga collaborazione insieme. Avvocato Scarano, entriamo subito nel vivo. Il tema, dicevo, avvocato Scarano è ruota, è quello che ruota attorno a un'espressione che è diventata di moda, è sempre stata con noi negli ultimi anni, però viene un po' abusata ultimamente, molto evocativa, non si capisce se sia effettivamente una questione del diritto o una qualche regola divina e sto parlando del diritto del mare. Brevemente, prima di avviarci appunto nella discussione su questo tema, cos'è il diritto del mare? C'è effettivamente qualcosa di normativo che lo regola? Allora sì, il diritto del mare è una branca ben definita del diritto internazionale e forse alcuni storici dicono che sia proprio il diritto che ha dato vita al diritto internazionale, proprio perché gli stati nazionali del Seicento, soprattutto dopo la scoperta dell'America e quindi l'inizio dei traffici, avevano bisogno proprio di regolare i loro traffici marittimi e quindi le fette di mare sotto la loro giurisdizione. Il diritto del mare, come lo conosciamo oggi, è il frutto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, quindi la Convenzione di Montego Bay e di altre convenzioni internazionali dedicate ad alcuni settori della vita di mare. Mi riferisco in particolare a quella sulla sicurezza della vita in mare del 1974, cioè la Convenzione SOLAS e la Convenzione sulla ricerca e il soccorso in mare del 1979, quindi la Convenzione SAR. Queste tre convenzioni effettivamente entrano in gioco un po' in questo dibattito perché citano, ci sono delle norme che qui metterò in evidenza, raccolgo l'invito senza entrare in tecnicismi da tribunale perché la materia è una materia molto complessa, soprattutto se poi collegata l'altra branca del diritto internazionale che è il diritto migratorio che viene ad entrare in contatto con queste norme e quindi cercheremo nell'ambito di un scopo divulgativo di mettere a fuoco alcuni principi fondamentali che si basano su alcune norme di queste tre convenzioni che ho citato e cercheremo di capire effettivamente come e quando si applicano ai flussi migratori e quale delle norme, in un contesto si dice tecnicamente, scusami se questa volta l'utilizzo, di bilanciamento, quali delle norme devono essere superiori rispetto a quelle dell'altra branca, quindi quale prevale e quale no. Chiarissimo, invitiamo a schermo anche una gradita ospite, l'avete già vista sui nostri schermi nelle precedenti stagioni e sto parlando di una giurista, lavora per la Fondazione Cime che fa parte del sistema della protezione civile, bentornata a Francesca Munerol. Ciao e buonasera a tutti, è un piacere essere di nuovo qui con voi, buonasera avvocato. Buonasera Francesca. Poi vi ricordo che Francesca Munerol, l'abbiamo detto più volte, ha diverse esperienze, ha stretto contatto con chi delle migrazioni è protagonista. Munerol, naufraghi, migranti, proviamo a fare un po' di chiarezza e poi ci aiuterà ovviamente anche Scarano. Sì, io ho fatto esperienza come volontaria in un campo migranti, in un campo migranti greco, uno dei tanti campi migranti e ho fatto esperienza diretta di quelle che sono le storie che si intrecciano ovviamente con il diritto e con le richieste delle singole persone. Storie estremamente drammatiche da un punto di vista personale e anche storie complicate da portare a termine giuridicamente. Non sempre finiscono con una richiesta di accettazione, con documenti validi, spesso ci sono respingimenti, spesso ci sono rifiuti ingiustificati, quindi non è facile. E non è facile perché ci orientiamo in un mare magnum di norme, sicuramente l'avvocato dopo potrebbe essere più preciso, ma già l'introduzione è stata eloquente, in un mare magnum di norme, di norme di diverso livello e di norme della materia specifica o di altre materie come le norme sul diritto del mare che però hanno un rapporto estremamente stretto con quelle che sono le esperienze delle persone in mare. Intanto bisogna fare una chiarezza sul termine, spesso si sente parlare di migranti, di rifugiati, di richiedenti asilo, sono tutte specie giuridiche differenti. Un rifugiato non è un migrante per forza e vale ovviamente anche viceversa, il rifugiato è chi ha fatto una richiesta di asilo, mentre un migrante è una persona che migra. Ho letto una bellissima intervista all'alto commissario delle Nazioni Unite, Filippo Grandi, ha detto questa cosa, ha detto il migrante è una condizione dell'essere. Faceva tutto un escursus al fatto di essere migranti fin dalle origini, l'uomo è ontologicamente migrante e diceva appunto questo per far capire la differenza che sussiste tra un migrante e i vari tipi di migranti, migranti economici, migranti di salute, migranti di lavoro, di studio e invece lo status giuridico del rifugiato. Quindi questa è la prima grande distinzione. E poi ci sono le subdistinzioni, quindi tutti i tipi di migranti subiscono forse regole differenti. Peraltro, lo accenno, io appunto sono in protezione civile quindi mi occupo sì di persone ma anche di ambiente, esiste una fattispecie che non è stata ancora imbrigliata dinamiche giuridiche nelle definizioni giuridiche che è quella del migrante climatico. Avvocato Scarano, essere migrante è una condizione dell'essere, invece da un punto di vista del diritto qual è la differenza tra un naufrago e un migrante? Allora, partiamo da un presupposto, da un presupposto fenomenologico e antropologico, perché è giusto. L'essere umano è per natura un essere migrante, quindi la migrazione insita, giustamente come diceva Francesca, nella natura dell'uomo, tant'è vero che l'evoluzione della specie deriva proprio da una forma di migrazione, sostanzialmente lo sappiamo, gli antropologi ce lo insegnano. Tuttavia, questo fenomeno naturale dell'essere umano a un certo punto necessita di una regolamentazione giuridica. Ora, francamente, non condivido la tesi sposata da alcuni esponenti relativamente al fatto che il rifugiato non è un migrante. Per un semplice motivo, il migrante dal punto di vista del diritto internazionale, quindi dal punto di vista del diritto migratorio, e qui poi vedremo la differenza tra diritto migratorio e diritto dell'immigrazione, è di fatto una persona che si sposta da un punto A a un punto B sostanzialmente senza farvi ritorno, quindi in maniera definitiva. Il rifugiato di per sé è una tipologia di migrante, è un migrante caratterizzato appunto da un particolare status protettivo. Un particolare status protettivo che gli viene dato da cosa? Da prima un diritto consuetudinario che viene addirittura dall'epoca dei sumeri degli egizi, quindi il rifugio, l'asilo, e poi ovviamente da tutta una serie di requisiti che vengono richiesti dalla Convenzione appunto sui rifugiati nel 1949. Detto ciò, naufrago e migrante non sono la stessa cosa né sul piano fattuale né sul piano giuridico. Ora io non sono un marinaio, non sono uno che si occupa di questioni di diritto marittimo, di diritto della navigazione, ma di sicuro il naufrago può non essere un migrante. Il naufrago può anche essere una persona che si trova su un natante e a un certo punto è in pericolo di vita perché il proprio natante non è più operativo, non riesce più a galleggiare, c'è una tempesta e quindi ha bisogno di aiuto. Però ovviamente i tecnici su questo mi possono aiutare. Il migrante invece, come dicevo prima, è una persona che si muove, che migra da un punto A a un punto B. Tutti i migranti sono naufraghi? No. I migranti possono essere naufraghi quando si trovano nella condizione fattuale di pericolo di vita in mare. Quindi nel momento in cui queste persone sono in un transito sul mare, su un natante che è in difficoltà e sono in pericolo di vita, si qualificano, sussistono su queste persone le due qualifiche. La qualifica di migrante, perché è un soggetto che si sta spostando, ovviamente con tutte le motivazioni del caso. È la qualifica di naufrago perché si trova nella condizione oggettiva di soccorso e di pericolo di vita. Quindi è qui il problema giuridico sul bilanciamento. Qual è il diritto che prevale? Il diritto della persona come naufrago o i diritti della persona come migrante? Quali sono i poteri che intervengono? I poteri dello Stato come autorità di soccorso in mare o i poteri dello Stato come autorità che ha un dominio riservato in materia di ingresso e respingimento dello straniero? Una volta che si qualifica bene la vicenda, poi non c'è una questione giuridica. Lì entra in gioco la scelta politica degli Stati, in particolare prima di tutto della comunità internazionale che comunque ha dato una risposta con i famosi Global Compacts su rifugiati e su migrazione sicura, ordinata e regolare, sia poi nel caso pratico o le organizzazioni regionali come il caso dell'Unione Europea attraverso una politica comune o lo stesso Stato costiero, cioè lo Stato che viene direttamente interessato da cosa? Dall'evento naufraggio, dall'evento pericolo di vita di un natante che contiene i migranti. Questo episodio finisce qui e noi ci rivediamo la prossima settimana per un altro episodio a continuazione di questo approfondimento dedicato alla migrazione e alle problematiche di diritto del mare. E allora ci vediamo alla prossima. Ciao!